In questo tutorial affrontiamo un particolare tipo di problemi sulle percentuali dette variazioni percentuali. Per andare a determinare una variazione percentuale è possibile applicare direttamente la seguente formula. La variazione percentuale sarà uguale al valore finale meno il valore iniziale fratto il valore iniziale per cento. Applichiamo ora questa formula a questo problema. Un titolo azionario dal valore iniziale di euro 1900 dopo un anno ha acquisito un valore di euro 1150. Qual è stata la sua variazione percentuale? In questo problema il valore iniziale è 1900 euro, il valore finale è 1150 euro e allora la variazione percentuale sarà uguale a valore finale 1150 meno valore iniziale 1900 tutto quanto fratto valore iniziale 1900 e poi moltiplichiamo per cento. A conti fatti si ha una variazione percentuale di meno 39,47%. Un paio di pantaloni costava euro 150. Dopo un anno lo stesso paio di pantaloni costa euro 30. Qual è stata la variazione percentuale del suo prezzo? In questo caso il costo iniziale di questo paio di pantaloni è 150 euro. Il valore finale è di 30 euro e allora possiamo andare a determinare la variazione percentuale andando a scrivere valore finale 30 meno valore iniziale 150 fratto il valore iniziale 150 e poi moltiplichiamo per cento ottenendo una variazione percentuale di meno 80%. Un albero qualche anno fa era alto 1,30 metri. Dopo 5 anni lo stesso albero è alto 6,60 metri. Qual è stato il suo incremento percentuale? Il valore dell'altezza iniziale di questo albero è di 1,30 metri. L'altezza finale è pari a 6,60 metri e allora per andare a determinare la variazione percentuale andremo a scrivere valore finale 6,60 meno valore iniziale 1,30 tutto quanto fratto valore iniziale 1,30 e moltiplichiamo per cento. Un incremento percentuale del 407,7%. Sei mesi fa pesavo 75 kg, oggi peso invece 60 kg. Qual è stato il decremento percentuale del mio peso? Il peso iniziale è pari a 75 kg, il peso finale è pari a 60 kg e allora la variazione percentuale sarà pari al valore finale 60 kg meno valore iniziale 75 kg fratto il valore iniziale 75 kg e poi moltiplichiamo tutto quanto per cento. ottenendo così una variazione del meno 20%. Vediamo quest'ultimo esempio. In un magazzino un anno fa avevo 460 pacchi di merce, oggi ce ne sono invece 95. Qual è stata la variazione percentuale del numero di pacchi in magazzino? Il numero di pacchi iniziale nel magazzino è pari a 460, il numero di pacchi finale è pari a 95 e allora la variazione percentuale sarà pari al valore finale 95 meno il valore iniziale 460 fratto il valore iniziale 460 e poi moltiplichiamo per cento ottenendo così una variazione percentuale del meno 79,3% e con questo termino il tutorial sulle variazioni percentuali.